Un giorno, una mamma a cammello e suo figlio stavano chiacchierando. Il bambino chiese, mamma, perché abbiamo le gobbe? La madre rispose, le nostre gobbe immagazzinano l'acqua per poter sopravvivere nel deserto. Oh, e perché abbiamo i piedi rotondi, mamma? Perché ci aiutano a camminare comodamente nel deserto. Queste zampe ci permettono di muoverci facilmente sulla sabbia. Ma perché le nostre ciglia sono così lunghe? Chiese il bambino. Per proteggere i nostri occhi dalla polvere e dalla sabbia del deserto, rispose la mamma. Il piccolo ci pensò un po'. Quindi abbiamo gobbe per immagazzinare l'acqua, zoccoli arrotondati per mantenerci comodi quando camminiamo sulla sabbia del deserto e lunghe ciglia per proteggerci dalla sabbia e dalla polvere durante una tempesta nel deserto. Ma allora cosa ci facciamo in uno zoo? Morale, la tua forza, abilità e conoscenza sono inutili se non sei nel posto giusto.